Ciascun uomo ha in sé un po' di un animale in senso positivo, c'è che assomiglia all'aquila, che assomiglia al leone, che assomiglia alla formica. Per quanto riguarda la sinistra, io credo che loro abbiano nel DNA un tasso, perché quando vedono una tassa, si è il cittadino, mi piace, la vogliono montare, puoi far salire. In questo senso è una cosa che noi siamo all'opposto, così come per noi la sicurezza è una priorità, che non è una cosa che a mezza bocca stretta devono dire. Noi sappiamo che senza sicurezza non c'è la possibilità di esercitare nessuno dei diritti previsti da una Costituzione.